E' da circa un decennio che il Comune di Trieste tratta con le ferrovie dello Stato per acquisire la titolarità di Via Flavio Gioia. La strada, è arrivata da conferma oggi agli uffici comunali, passa sotto legida dell'amministrazione locale. L'obiettivo, ribadito a più riprese dal Sindaco, è quello di regolarizzare la sosta in quell'area adiacente alla stazione autocorriere, il parcheggio del Silos a sinistra e la stazione dei treni a destra. Stando a quanto comunicato da Di Piazza, verranno istituiti dei parcheggi a pagamento che eviteranno il ripetersi delle problematiche di intasamento della zona, oltre che riqualificate ai uole e marciapiedi. Anche la fermata dei taxi verrà spostata da Viale Miramare, dove patisce problemi di allagamenti continui e difficoltà di immissione nel traffico, a Via Flavio Gioia, un intervento che si inserisce nell'ambito della riqualificazione complessiva dell'intera area, da Piazza Libertà con gli interventi effettuati nel giardino attorno alla statua di Sissi, sino a Largo Santos, dove verrà eretta l'installazione battezzata all'occhio di Massimiliano, voluta dall'archistar Kipar, che ha curato il layout di Porto Vivo. Questo a pochi passi dal varco monumentale, che permette l'accesso alla bretella che attraversa l'ex scalo asburgico. Insomma, quello di Via Flavio Gioia non va visto come un intervento a sé stante, ma come un tassello di una complessiva riqualifica dell'area. Ovviamente, resta invece da decidere il futuro dell'ex market della via stessa. Per la maggioranza di centrodestra rimane il no sul centro a bassa soglia per migranti e permane l'ipotesi commerciale. Per il centrosinistra e le associazioni che si occupano di migranti in arrivo dalla rotta balcanica sarebbe invece la soluzione più idonea.